è vero che qualsiasi leader politico di fronte a un palco è assalito da un amore cieco e morboso che lo spinge a salirci anche se al centro è piazzata una botola che rischia di inghiottirlo ha un'attrazione compulsiva simile a quella che provano i virologi davanti a una telecamera quando iniziano a parlare anche se è spenta però questo non basta a spiegare lo straordinario successo che sta registrando la versione invernale di Atreiu la settimana di eventi e dibattiti che FDI solitamente organizza a fine settembre ieri è andato a farci visita il segretario del PD, Letta, la cui sortita è seguita a quelle di Conte e Di Maio Cartabia e Cingolani, Descalzi e Rampini domani toccherà Renzi e Violante, Cassese e Bonomi, Vaia e Rudy Giuliani sono solo alcuni nomi della meglio sinistra e della meglio Italia che si sono messe in fila per rendere omaggio a Giorgia Meloni la manifestazione è stata battezzata dalla leader di FDI il Natale dei Conservatori un nome che ha una doppia valenza la prima è indicare la centralità della difesa del cristianesimo nel programma delle destre specie adesso che è sotto minaccia dall'Unione Europea e non solo dall'Islam come ha fatto notare di recente anche il Papa la seconda è segnare una linea di passaggio una rinascita del partito appuntamento indispensabile per una forza che ha raddoppiato i consensi in un anno nello stile della Meloni era tutto nel titolo tutto chiaro a tutti e chi è venuto ad Atreiu anche i rivali politici sapeva di dare il proprio contributo di legittimazione a questa operazione politica e quindi? E quindi da adesso basta con la storiella del fascismo che la sinistra tira fuori ogni volta che si avvicina il voto o FDI avanza troppo nei sondaggi e occorre ricacciarla nel ghetto Seletta e Di Maio Conte e Renzi hanno fatto a gara per fare passerella davanti alla Meloni trovandosi perfettamente a proprio agio ad Atreiu significa che sono consapevoli che le accuse di collateralismo ai neofascisti e le richieste di Abiura che periodicamente la sinistra fa a Giorgia sono strumentali abbagli per allocchi, fetici ai quali aggrapparsi quando non si hanno altri argomenti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti